Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Buonasera. Buonasera. Come va? Come va? Il solito dramma. Allora oggi tocca alla nostra Margherita Gheppier raccontarci come si è svolta la sua giornata di ieri, che cosa ha fatto, se ci sono stati elementi significativi. Mi sono svegliata verso le 8 per andare ad aprire il mio negozio dove lavoro come commessa. Si è nutrita prima di andare? Ma sì, ma sì, non pensavo fosse rilevante. È molto importante anche perché sa che la prima dose farmacologica va assunta. dopo la colazione. Sì, assumo i farmaci prescritti. Con regolarità mi auguro. Ma certo. Perché l'altra volta avevamo avuto una discussione su questo, in quanto lei utilizzava dei succedanei. Ecco, sì, continuo ad usarli. Ecco, io le consiglio... Posso aprire la finestra? Fa veramente caldo qui. Ecco, il problema della finestra è che è rotto il meccanismo del vasistas, quindi siamo impossibilitati, vista l'altezza del soffitto, a raggiungerlo. E' un problema, se igienizzo un attimo per purificare l'aria? Ecco, ecco, è un nuovo prodotto. Allora, noi siamo qui per aiutarla, per farle vincere questa sua grave problematica. Quindi, almeno abbia la cortesia, finché siamo in seduta terapeutica, di evitare di manifestare in maniera così accanita e continua. Ma nel momento in cui siamo concentrati sull'ascolto, cortesemente, non interrompiamo continuamente. E va bene, mi scusi, mi scusi. Prego, procediamo. Insomma, mi sono recata al negozio, ho servito qualche cliente che ha richiesto... Della biancheria intima? Ecco, lo sapevo. Allora, io vorrei sapere dai fate bene fratelli, perché questa provocazione? Abbiamo detto, sappiamo, del problema della signorina Gheppieri che dobbiamo inserire. L'aiuto! Ecco, allora, a questo punto io mi vedo costretta a chiamare gli infermieri. No, 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 la dottoressa è andata. No, signorina, guardi, sto già meglio. Ecco, forse i soliti integratori, magari. Ecco, sento già meglio. Allora, noi vorremmo sapere qualcosa di rilevante della sua giornata, quindi vorremmo conoscere dei dettagli. Mi sono risvegliata nello stanzino. Non so assolutamente per quale motivo. Lei sa che le mie zie sono le padrone del negozio e mi hanno praticamente cercato di spiegare la situazione, ma farfugliando cose incomprensibili riguardo a degli indumenti, usando mille giri di parole, non arrivavano mai al dubbio, perché dicevano che se no sarei svenuto di nuovo. Quindi, nell'attitudine al suo lavoro, a un certo punto lei ha subito di nuovo questa crisi? Sì, probabilmente faceva caldo. Ecco, quindi lei veramente non è a conoscenza di quello che è lo scaturimento del meccanismo che le provoca gli svenimenti? Sono a conoscenza della mia pressione bassa. Ecco, questo lavoro delicato sulla causa, sul detonatore del meccanismo dello svenimento andrà approfondito in sede individuale. Quindi mi vedo costretta comunque a fissarle degli incontri con uno specialista di crisi psicopatologiche come le sue. Signor Tempesti. Signor Tempesti si plachi cortesemente. Margherita, che età hanno le sue zie? Possiamo astenerci da questi commenti obsoleti? Grazie. Ecco, sei obsoleto. Quindi, durante la mattinata, lei ha subito nuovamente una crisi. Ma, dottoressa, guarda, perché non chiede... Signor Tempesti, ritorni immediatamente al suo posto. Se no, siamo costretti a chiamare gli infermieri. Procediamo, signorina Gheppier. Ecco, stavo dicendo, perché, per esempio, visto che ci troviamo in un gruppo, non interpella la signorina Bevilacqua? Mi sembra una persona così sensibile. Lei ritiene che io, insomma, sia patologica? Ehi, un po' strana ci è, signorina, eh? Allora, definiamo i ruoli. Quindi, se qualcuno qua può dare soluzioni o indicazioni su questioni di stampo patologico, non sono certo i pazienti in cura. È sanissima, è sanissima. No, che ferro, stami lontano. Signor Nevio, glielo dico a lei. Signor Malcovic, cortesemente anche lei la smetta. Torniamo al suo problema. Sì, ho visto i miei genitori, abbiamo chiacchierato. Sì, loro sono molto affettuosi, ma purtroppo non ci capiamo più molto bene da quando mi hanno raccontato della loro gioventù. Ecco, approfondiamo questo argomento, perché potrebbe essere un'utile chiave di lettura. Ma, dottoressa, non vedo perché. Alla fine io l'ho accettato benissimo, le loro dichiarazioni sono certa alle differenze. Ovviamente non condivido, ecco. Proceda, proceda nell'esposizione. Cosa avrà mai fatto? Cosa avrà mai fatto? Ma, sono questioni private, ma riguardo alla loro gioventù erano tipi particolari, completamente diversi da me, solo che io non me l'aspettavo. Sì, lei è molto buona, molto dolce. E quando mi hanno raccontato di queste loro esperienze sono rimasta colpita. Sta dormendo. Di conseguenza, come si è conclusa la sua giornata? Sì, tornando allo stanzino mi sono risvegliata e appunto, come le dicevo, le mie vie... Svegliata? Per alzare la pressione. Ecco, devo dire che mi generano qualche sbalzo, però va tutto bene. Sono tornata a casa e ho passato una bella serata.